Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Minecraft Allora, dall'ultima volta ho creato questo buco Che poi andremo a continuare Su per la montagna che abbiamo appunto qui dietro E non ho fatto nient'altro Ho scavato un po' verso il sotto In realtà Infatti Ho iniziato a fare il terzo passaggio Ma prima di fare ciò Lag Mi serve Andare a prendere del ferro qui nel canyon Infatti ora andremo qua sotto a cercare del ferro E ho cotto anche la carne di pecora Che l'altra volta non avevo cotto Ora speriamo ce ne sia abbastanza Per farmi due cesoie Cioè due cesoie, una cesoia ed è il secchio E questi cosi qui Non so cosa siano Fighi, ci possono prendere o raccogliere Sì, ok Questi cosi qui non so Cosa servono, forse tipo a far la lava infinita Può essere E non lo so Almeno tipo in una skyblock Con C'era Non so se era però una mod C'era un plugin Più che una mod C'era appunto Sta cosa che con Il calderone sotto Potevi fare lava infinita Boh Proveremo Oh cazzo Che fa? Non mi ha visto Ma oh Non mi aveva visto Meglio così Prendiamo una torcia Se no voi non vedete niente Mi sta spike laggando Non so perché Ma forse sta ancora caricando un po' il mondo Di copper C'è un sacco Mamma mia Veramente un sacco di copper Andiamo ancora a capire Cosa Cosa posso farci Perché l'altro video l'ho caricato Cioè devo ancora caricarlo e devo ancora editarlo Quindi Lo sto registrando subito dopo praticamente Quindi aspetterò voi nei commenti Che mi dite Cosa Cosa posso farci Ok Preso il copper Aia Ok Ci sono anche sto scheletro Oh ferro finalmente L'unica cosa che sono venuto a prendere Oh Abbiamo trovato dell'oro Che non posso prendere Senza il piccone in ferro Ma vabbè Questo Problema secondario Non è anche il legno Portata di mano E ho quasi finito il piccone Io sono sceso con un piccone Finito Fantastico Comunque abbiamo 10 di ferro Ah lag Comunque adesso Lasciamo qui un attimo i materiali Andiamo ad esplorare un po' più avanti Per vedere cosa c'è Ste cose fan danno Cioè tipo ci vado sopra Sì Ok Lo prendo E non sì Ecco Tipo questa qua Dovrebbe darmi acqua Infinita Praticamente Va bene Il carbone Purtroppo Mi tocca lasciarlo lì Perché non ho più il piccone E se mi serve per risalire Almeno lo ho E niente Vado a cuocermi la roba Eccoci qui Alla nostra cascata A maciare del ferro qua Non l'avevo visto Mannaggia E niente È finito il piccone Andiamo su Sta anche piovendo Ah il lag Ma perché sta laggando Cioè vabbè A parte i 30 fps Che Vabbè Non Non capisco perché Ma comunque Va bene così Andiamo in cima Vedo già due scheletri Quindi direi di correre Verso casa Molto Velocemente E di corsa Oh Lo scheletro ha colpito L'altro scheletro Dormi Ok Ci facciamo Subito il bucket E con queste qui Invece ci dobbiamo fare La La nostra Carissima Zappo Ok Boh Cripper risolto Mamma mia Che infartino Poi mi faccio Delle cesoie Cesoie ho detto In realtà Ok mi faccio Due secchi Così Tac Mi faccio L'acqua Infinita E sono A posto L'acqua Sopra di noi Dovrebbe esserci In teoria Perché non voglio Prendere quella lì Che mi porta giù Nella miniera Ancora Vediamo Comunque Io scopro che c'erano Altre pecore Eccola lì L'acqua Perfetto Prendiamo quella lì Che tra l'altro È quella che ci manda Sotto Ok Non avevo visto Il laghetto di fianco Ops Scusate Una gallina Un uovo Un uovo Un uovo L'uovo fa sempre comodo Poi appena possibile Ci faremo anche La farm di polli Cotta Ok Bene Perfetto E ora possiamo tornare A fare la nostra farm Di grano Ma manca una cosa fondamentale Che io non ho ancora Cioè i semi Eh già Sono senza semi Oh cazzo Ma questi chi li ha visti Aiuto No 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 Non sono ancora equipaggiato Abbastanza per battere voi Fermi 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 Ma chi vi vuole Aiuto Mi starò ancora secondo Aiuto Aspetta Queste aprono le porte No ok Sembrerebbe di no Chiudi sta porta Ehi Sì ma Sì ma Va bene Scusami eh 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 È un bel problema Devo dire che è un bel problema Facciamo così Ok forse così è fattibile Non lo so Vediamo No ma No ma No Ando che fanno un sacco di male Questi oh Boh Abbiamo riconquistato casa Cos'è sto buff Ok Eh Boh Mettiamolo No Mettiamolo qua Anzi lo mettiamo come All'esterno tipo Sta il mio territorio E La prima o poi ne avremo un altro e lo metteremo sopra Cioè di fianco che è sopra Allora stavo dicendo Dovevo farmare i semini per farmi Appunto La perfetto Perfetto Farmi la farma Però nel mentre Tra l'altro devo allargarla Continuarla farla per lungo Devo ancora finire qua Bene allora direi che L'acqua la facciamo scorrere qua sotto Di sicuro Proprio l'ideale perché almeno non occupa spazio per il momento Ho sbagliato a prendere l'acqua Ok dovremmo esserci Quindi per ora Questi tre blocchi qui Si coltivano molto facilmente Le altre fonti d'acqua non mi servono E direi che per ora mi basta Quindi mi fa piantare Perché? Perché manca la luce E questo perché non è cosa? Forse serve ancora più luce Un lag Tutte le torci che avevo Una me ne è rimasta Ma scusa Facciamo così Dovrebbe bastare ora Va bene dai 19 ce li facciamo bastare Dovrebbero bastarmi per finire Anzi ne ho preci probabilmente anche in più Uh due in più Due in più dai Not bad not bad Due in più ci sta ci sta Ok allora la farm l'abbiamo fatta Ora Col ferro che si sta cocendo Dobbiamo andare a recuperare Delle foglie di quercia Per fare la La Sopra della casa Giustamente Foglie di quercia Non mi danno i sapling E questo è un problemino Ma Vabbè Ce li Ci accontentiamo Ce lo facciamo bastare Dai Ci vada 5 Ce lo facciamo bastare Ce lo facciamo bastare Ragazzi Non avevo calcolato una cosa Ovvero che Le fence C'è le fence Dove ci sono le slab Io non posso metterle Archeria nel buco Quindi sa che Dobbiamo modificare Il tetto E E si E farlo più grosso Vediamo come viene Cioè ovviamente Perdo quell'effetto Bello Di Di curva Ma Cioè è l'unico Non ho altri modi Per metterci le foglie sopra Se voglio metterle Mi serviranno anche le liane No così no No decisamente no 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 Così No per niente proprio No così Orrendo No 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 Leviamo giù le foglie Leviamo tutto e via Cioè Bruttissimo così Non si può vedere Ok abbiamo ripristinato Il nostro tetto Sto lag mi sta dando Fastidissimo Ma non importa Il Questi qua Eh Boh Vediamo se ne vanno questi Intanto Cambia qualcosa Magari mettendoli qui A scaletta Che vengono giù Magari è più carino Ma in realtà Forse è anche di uno Con tipo Cioè il Tipo cortile Cortile L'entrata no Entri coi fiori Secondo me può starci Vabbè andiamo a dormire Prima che spawnino mob Qui vicino Ok Ho rinviato minecraft Speriamo non laghi ancora Comunque direi Di fare anche qua Tipo Verso la farm La cosa Ma non Non verso la miniera Cioè alla fine È una miniera Chi cazzo Se ne frega Qua magari facciamo così Facciamo il piccolo Percorsino Facciamo bello Collegato Così tipo Secondo me ci può stare Cioè poi facciamo così Tipo doppia iuola No doppia iuola no Vabbè Qui è laggato Pesantemente Devo dire Ma va bene E in realtà Cioè vabbè Considerando che tipo Qua ci sono le rotaie Forse Magari farei una cosa Tipo così Questo per dire Ehi Non è completamente Lasciato lì Il suo destino La mia miniera Vabbè dai Così è carino Dai Sta prendendo Sta prendendo forma Magari qualche fiorellino Adesso Non questi qua Ma Quelli grandi Rossi Tipo Non li trovo Quindi per ora Useremo questi E ce li faremo Andare Bene Strada però La voglio di due Questa almeno No vabbè Comunque continua a laggare Non so che abbia Ma in realtà Forse questa qua Sarà più carina Farla direttamente Da tre Giusto per Perché da uno Mi sembra troppo povera Cioè non ho Qui facciamo avanti così Questo fiore lo devo levare Mi dispiace il bianco pure Ma Non posso farci molto Qui facciamo Vabbè Finiamo anche quella strada lì A sto punto Che Facciamo così Lì E qui Chiudiamo tutto Là Tanto qua arriva il kart E via Non Se si saltavi sopra No ok Va bene Mi ricordavo male Cosa devo spaccarla Per rimetterla a posto Ok No vabbè Dai Lasciamola così Che così sembra Tipo una villetta lì Incastonata Poi entri dentro E bam Vedi una mega Una mega figata Di posto che si espande Dentro di là E Secondo me ci può stare Ah le liane Le liane mi servono Vero vero Piliamo anche quelle Ormai che ci siamo Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Se vi era anche una farm Di liane Ma quella più avanti Le liane in realtà Cioè mi piacerebbe Metterle a casa Però volevo Le foglie sopra Non lo so Proviamo a metterla Tipo Là 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 Che intanto si Si espandono Da sole Quindi Poi è un problema Ah è lag Qui non posso metterle Eh Sad Vabbè Qua Facciamo così E Vabbè Lì si espandono Qui dovrebbero espandono Comunque mettiamone una lì Che Da comunque Quel tocco di verde Che volevo Me aggiungere Quindi ragazzi Io vi saluto per questo video Ci vediamo nel prossimo Ciao Ciao